Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Oggi è il giorno dei funerali di Totò Schillaci. Da giorni non si fa altro che parlare di lui. E in questi minuti, sua figlia ha voluto regalarci qualcosa di molto personale, delle semplici parole che Totò avrebbe detto negli ultimi istanti di vita. In questo video ti faremo proprio ascoltare cosa Schillaci avrebbe detto ai figli poco prima di morire. La morte di Schillaci a 59 anni ha toccato tutti, anche i più giovani, che avevano imparato a conoscere il generoso e semplice Totò. Come ha spiegato la figlia Jessica, il suo quadro clinico non lasciava nessuna speranza. Jessica spiega, io avrei voluto salvarlo, ma non è stato possibile. La ragazza ha raccontato gli ultimi giorni di Schillaci. Totò ha detto ai figli parole che non sarà possibile dimenticare. Ecco di cosa si tratta. La figlia secondogenita di Totò Schillaci, Jessica, racconta gli ultimi giorni in ospedale assieme al padre. Ci ha chiesto scusa perché ha pensato di non essere stato presente tutte le volte che avrebbe voluto. La situazione è precipitata negli ultimi giorni. Papà ha iniziato a giocare una partita che sapeva già di avere perso. Abbiamo parlato. Abbiamo anche scherzato finché è stato possibile. Abbiamo ricordato i momenti più belli delle nostre vite, quelli che non si potranno mai dimenticare, che nessuna morte potrà mai portarmi via. È stato a suo modo un eroe, ma per me era solo un padre. Il nostro rapporto non è stato sempre facile, ma quale rapporto fra genitori e figli è facile? Certamente non è stato facile dirgli addio. La figlia Jessica ha poi concluso raccontando. Tre giorni fa, al suo capezzale, io e mio fratello Mattia gli abbiamo detto che davanti all'ospedale c'erano già le tv. Ci ha risposto, a me importa solo di voi. E ci ha chiesto scusa perché ha pensato di non essere stato presente tutte le volte che avrebbe voluto, che noi avremmo voluto. Io faccio l'infermiera a Verona e sono tornata per stare assieme a lui in questi giorni di profondo dolore, ha detto Jessica. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella.